E' innamorata, si, del tuo fuoco, della tua luce, della tua grazia. Senti ragazzina, io e tua mamma non siamo amiche, siamo sorelle. Ti posso dire un segreto? E' lei che mi ha insegnato a ballare. Ci avrei bisogno di un giorno di riposo a settimana. Io ho bisogno di una persona che a me fa sette giorni. Sette! Non è colpa mia senza trovare uno strascio di lavoro che dura più di 24 ore. Tessa che era dei casini, io sto qua a frignare. Ho capito, io ho già un sacco di casini, ma pure tu non mi senti messa meglio. Ho capito, io ho già un sacco di casini, ma pure tu non mi senti messa meglio. Ho capito, io ho già un sacco di casini, ma pure tu non mi senti messa meglio.